Una delegazione di politici industriali malesi a Torino per un accordo con Altec, azienda aerospaziana e ingegneristico-logistica, è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dai presidenti del Consiglio regionale della Giunta. L'interesse malese è legato ai recenti successi dell'industria piemontese, in particolare l'Intermediate Experimental Vehicle, il programma dell'Agenzia Spaziale Europea che ha effettuato il primo test di volo senza equipaggio nel febbraio 2015.